Il rapporto tra la medicina e l'arte, ma più in generale quanto la malattia, in alcuni casi condizioni addirittura positivamente le attitudini e le predisposizioni delle persone in campo artistico. Tantissimi e suggestivi esempi descritti nel corso di un incontro organizzato dall'Associazione Nazionale Medicina Legale, nella pubblica amministrazione che raccoglie i medici presenti nelle commissioni medico-legali, all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dibattito sul tema il medico e l'arte, moderato dal responsabile della sede Anza di Napoli, Angelo Cerulo. Dalla malattia di Caravaggio a quella di grandissimi musicisti, tante le curiosità raccontate dal medico Pino Clemente. Direi che in questi casi che ho presentato la malattia ha influenzato sicuramente l'arte in maniera positiva e comunque in molti casi addirittura è stata slatentizzata la potenzialità creativa proprio dalla malattia. Gli esempi dei malati psichiatrici arrivati in manicomio a cui hanno dato qualche tavolozza, qualche tela in mano, hanno cominciato a dipingere loro che non erano mai stati pittori. Il senso dell'incontro nelle parole di Giuseppe Guadagno, vicepresidente Anne Melepa. In coincidenza con le festività natalizie di portare praticamente la malattia, che praticamente è l'argomento della nostra attività quotidiana nei giudizi delle commissioni mediche, nell'arte per dimostrare come in certi casi la malattia si trasforma invece in abilità e può migliorare determinate praticamente produzioni. Il generale Luigi Lista, presidente dell'associazione che ha organizzato l'evento, evidenzia quanto negli anni sia stato il contributo per la definizione delle tabelle ministeriali. Io mi sono trovato in situazioni in cui, diciamo, a livello nazionale, a livello ministeriale abbiamo potuto fare proposte concrete perché dalla prima linea, che è il momento in cui in commissione medica il dipendente pubblico accede perché ha fatto una richiesta, perché è malato e deve regolare i rapporti con la pubblica amministrazione, è proprio da questa prima linea che nascono esigenze e proposte che possono far migliorare sicuramente anche posizioni di stato giuridiche nelle situazioni regolamentari che il legislatore ha voluto stabilire.